Il prefetto di Salerno, Francesco Russo, ha disposto la sospensione del Consiglio Comunale di Cicerale. La decisione arriva in seguito alle dimissioni rassegnate dalla maggioranza dei consiglieri comunali venerdì scorso che hanno sfiduciato Gerardo Antelmo, sindaco eletto nel 2019. Il prefetto contestualmente ha nominato commissario prefettizio per la provvisoria amministrazione del comune in attesa del decreto di scioglimento del Consiglio da parte del Presidente della Repubblica, il vice prefetto Roberto Amantea. Il piccolo centro cilentano tornerà alle urne nella tornata elettorale del 2022.